Guarda la telecamera Mario però, almeno tu. Mario Musino, presidente del Consiglio Comunale di Oristano, in rappresentanza del... Non si può così, però abbiate pazienza. Riprendiamo Mario Musino tutto. Mario Musino, presidente del Consiglio Comunale di Oristano, in rappresentanza del sindaco Angela Nonnis. Cosa significa la Sartiglia per questa città, presidente? I nostri cuopi. Ma è possibile? Ma dai, ma io non lo so. Scusa?